signori benvenuti in questo video spazzino simulator no non è spazzino simulator un gioco dove si comprano e vendono auto faccio il ragazzo vedi car business per cellulare dai sai perché sembra rimanici per chitarra buonasera ma è la bomba fra windows 11 proprio tenendo allora la sopra potete vedere che abbiamo 15k di euri allora a ufficio ci sono già la casa auto market o moglie domani container spettacolo allora allora questo è un gioco per cellulare quindi comunque io 15 mila euro tutto quanto vuoi faccio rugazzo vuole 36.000 con poco mi compro casa a lamborghini ma la vendi a 15.000 no è una porsche ovviamente non hanno i loghi una cos'è una hyundai quella ma non mi ricordi non mi ricordi non mi precisi però una hyundai che sbocchino le euro allora sai che c'è io me ne vado acqua a se io provo qua e si giustamente la lamborghini a quindi questa non è la casa questa è il quartiere dove vendo la macchina ok io 15.000 tu quanto vuoi una macchina di merda questi la vendono ma bella questa bmw bello ma la macchina di merda qua la vendono in il tuo gioco sono tutti macchie moniche non si può permettere manco cristo si su capito ma qualcuno che vende una macchina normale una smart una fiat panda cioè dic sì però c'è chi è me tu con questo va a fare la spesa a parte che non c'è trust note questo la vende a 17.000 su 15 senti ti do 15.000 ti do 14 gli accetti no vuole di più senti 15.000 dai 15.000 grand boys of that place non c'è teresa ma va a fare un mok va allora allora night round questo qua è solo uno sbattimento le macchine sono le stesse di quelle che stanno automarket solo che la devi girare per tutte le case e qua sono tutti insieme comunque questo gioco si può giocare pure con la modalità aereo cioè senza internet quindi buono a sapersi dico metti che state sotto metti che state sotto terra a fare escursioni sotterranee potete giocare cioè il gioco non vi impone no devi attivare internet perché io devo guadagnare sì perché è ita ci sta però neanche me lo devi imporre questo gioco ti permette di giocare senza internet questa la vende a 13.000 compra allora signori allora grandissimo allora questa sarebbe aspetta allora la macchina sarebbe questa qua è sporca però sarebbe la hyundai quella sportiva che ora non mi ricordo nemmeno la honda civic nemmeno la rena nemmeno la vabbè la hyundai la honda civic però ho capito il nome lo mettono vabbè ora siamo alla casa anzi no bugia andiamo a lavarla prima dove cazzo si va per lavarla io sto secondo la minimap che stai nata a destra allora quanto vuoi per lavarla 100 euro questa macchina non frena non è una macchina sportiva dove cazzo si paga io sto scherzando questo vuole veramente 100 euro io sto scherzando ma quanto vuole 100 euro questo vuole veramente 100 euro capolavoro allora facciamo dei calcoli così veloci no allora l'ho comprata a quante 13.000 che poi una honda civic a 13.000 è regalata a parte questo da cazzo per venderla scusa io come cazzo la vendo vabbè quindi io l'ho comprata a 13.000 prova a 20.000 io provo 20.000 poi faranno le offerte ma io per venderla non è che non è che non è che la devo mettere all'asta che palle l'asta io non posso decidere il prezzo allora eh che palle l'asta ma devo pure pagare ma devo pagare per fare la venda ma io c'è allora uomo a quanto me la vuoi vendere la macchina era un po' danneggiata a parte che non ho 5.000 con i tataki ah quale è la vittura di car wash potete vedere ah ecco allora open allora l'ho comprata a 13.000 senti 1 2 3 io provo 20.000 io provo 20.000 add foto vabbè take foto faccimi una foto a cazzo grande post for sale io provo 20.000 se nel caso allora io provo 20.000 se nel caso mi sputo in un occhio tu che vuoi allora 20.000 I want offerte 13.800 minchia l'ho comprata quel prezzo almeno offrimi 15.000 i soldi che avevo prima grande grande minimo 15.000 I offer 13.000 frate io l'ho comprata a 13.000 l'ho comprata a 13.000 io io non voglio fare quello che la deve vendere a 16.000 però eh eh io l'ho comprata io a 13.000 io l'ho comprata permetti eh ma io offeri 15.000 questo offre 15.000 aspettiamo qualcun altro vabbè si è un po' è un po' danneggiata la macchina eh però per ripararla quello voleva 5.000 io non ce li ho eh 16.000 offrimi 16.000 una macchina per te proprio minchia uguale 16.000 mo so che nef grande 18.000 affaccio lo cazzo beh signori ci vediamo al prossimo video vi si ama eh ci vediamo ciao ciao ciao